Ho scelto per te 8 giugno, 13 giugno, 4 persone, partenza da Napoli, volo diretto per Madrid. Il totale è di 617 euro in 4. Adesso andiamo a scoprire l'hotel. Riguardo gli hotel, sulla nostra piattaforma abbiamo oltre 344 autore. Il prezzo più basso è di 190 euro in 4 persone, per 4 persone 190. Giustamente poi, come puoi notare, i prezzi vanno a salire a seconda della zona in cui tu vuoi andare, proprio se vuoi a Madrid o vuoi in una zona un po' più fuori Madrid, ecco, i prezzi vanno a salire. Invece, se tu vuoi una struttura proprio vicino al centro, a solo 5 chilometri da Madrid, Io ti consiglio questo. Select Madrid ha solo 499 euro in 4 per 4 persone. One bed, un appartamento, una stanza praticamente, che ti fa guadagnare anche 12 dollari e mezzo di viaggio. Una struttura a solo 5 chilometri dal centro, che ha anche la cucina. È un divano letto, è giustamente per i tuoi figli, come puoi notare qui. Ed è perfetta per voi come famiglia, se non vuoi mangiare sempre fuori e vuoi cucinare anche un pasto caldo. Un'altra struttura, un'altra struttura, un'altra struttura,